Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È arrivata in questi giorni una vera e propria stoccata da Viktor Orbán, presidente dell'Ungheria, contro la nostra Italia. La questione parte tutta dalla vicenda di Laria Salis, che era stata sottoposta a un processo in Ungheria con delle accuse anche piuttosto pesanti, e poi è stata liberata da che è stata eletta alle elezioni europee come europarlamentare nelle fila della New Left arcobalenica post-marxista, nemica di Gramsci, di Marx e delle classi lavoratrici. Ebbene, a Orbán e in generale a Lungheria non è piaciuta molto la scelta dell'Italia, che grazie alla elezione di Laria Salis l'ha sottratta alle grinfie di Budapest e quindi di fatto non è più incolpata, o meglio non è più processata, essendo ora europarlamentare. Orbán ha detto che questo modus operandi è il classico modus operandi all'italiana. Ora, mi permetto di svolgere alcune purte le grafiche considerazioni. Sul caso della Salis possiamo discutere lungamente. Per parte mia non ritengo che Laria Salis abbia una visione del mondo particolarmente strutturata e soprattutto particolarmente condivisibile, anzi mi pare che rappresenti al meglio la New Left, che non parla mai del lavoro, delle classi lavoratrici, della lotta all'imperialismo, la sinistra dell'arcobaleno, che parla di questioni che non toccano mai il conflitto di classe. E tuttavia mi pare che l'accusa generalizzata da Orbán all'intera Italia sia alquanto ingenerosa. Caro Orbán, capiamo le tue ragioni, ma non puoi generalizzare come se tutti gli italiani fossero come li descrivi tu. Non tutti gli italiani sostengono la Salis, non tutti gli italiani sono tali da operare nel modo da te detto, quindi forse faresti meglio a rivedere un po' col tuo giudizio.